ciao a tutti sono surabi oggi vi propongo una mini storia una mini storia letta attraverso i tarocchi rider weight c'è una persona questa carta è riferita a qualcuno che si sente come se non riuscisse mai a raggiungere i suoi obiettivi perché sembrano sempre lontani sembra sempre che ciò che vuole sia difficile da ottenere e che ci siano tante belle cose che potrebbe avere ma non riesce a ottenerle e c'è conflitto intorno a questa persona c'è forse anche dei litigi ma dei litigi costruttivi qualche cosa che le aiuta a costruire ma nel contempo deve imparare a lasciare andare deve imparare a abbandonare certi atteggiamenti certi pensieri negativi certi modi di essere conclusione può andare tutto bene se questa persona imparerà a prendersi le proprie responsabilità ad agire con la consapevolezza della propria responsabilità nelle scelte che si fanno per oggi vi saluto vi auguro una buona giornata una felice giornata e alla prossima questo queste letture ho intenzione di farle di nuovo una volta alla settimana come per le letture degli angeli se questo video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di mettere impostare pure i commenti per farmi sapere se vi piace questo tipo di lettura o se preferireste quella tradizionale con la scelta delle tre carte e di iscrivervi al mio canale se ancora non vi siete iscritti per sapere in anteprima quando pubblicherò vi mando un grande abbraccio ciao a tutti su rabbi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti